Monta la polemica in Germania contro il Vescovo della diocesi di Limburg, Franz Peter Tebanz Van Hels. I fedeli stessi ne chiedono le dimissioni dopo lo scandalo della ristrutturazione faraonica della sede vescovile, costata 30 milioni di euro. Il Vaticano ha inviato un mediatore e disposto una commissione di inchiesta della conferenza episcopale tedesca.